Cari telespettatori di Auto Occasioni, ben ritrovati. Oggi vi porto in un luogo speciale per gli appassionati di tutti gli automobilisti. Parliamo di Torino Auto, la vostra concessionaria stellante, storica concessionaria, che oggi ci ospita nella splendida sede di Corso alla Mano 29 Grugliasco, accompagnata da due grandi professionisti, Enzo Zappia e Diego Soldera, per parlare di grandi novità. Intanto ricordiamo le sedi. Ciao Enzo. Ciao Palma, un bel ritrodo a tutti. Siamo, come già detto da Palma, nella nostra sede, la fantastica sede di Corso alla Mano 29 Grugliasco, totalmente rinnovata, per cui vi aspettiamo numerosi per venire a scoprire le novità. Ma non dimentichiamoci delle altre sedi, quindi la sede di Strada del Portone 10, Angolo Corso al Bassano, dove vi trovate presente, e la piccolina sede, ma che comunque è sempre a vostra disposizione, quella di Via Grandi 8 Grugliasco, dove è disponibile la sede vendita, ma anche il magazzino ricambi. Che dire amici, Torino Auto ormai un'ostituzione sul nostro territorio, da decenni serve la clientela per rispondere ad ogni tipo di esigenza. A proposito di esigenze, questo mese avete un motivo in più per acquistare la vostra auto in modo facile, sicuro e garantito, sapete perché? Sono arrivati gli ecoincentivi e ne parliamo con Diego Soldera. Ciao, mi hai ritrovato. Esattamente Palma, gli ecoincentivi sono ritornati e siamo pronti a usarli per rottamare la vostra vecchia automobile e far viaggiare su una nuova vettura del gruppo Stellantis. Voglio subito a farvi degli esempi, perché pensate, con Fiat Panda potete viaggiare su una vettura ibrida, con la rottamazione statale potrà essere vostra a soli 9.700 euro. La 500, sempre un motore 1000 Hybrid, potrà essere vostra con la rottamazione del vostro usato da 10.950 euro. E pensate, la nuova 600 1200 Hybrid 100 cavalli da 18.950 euro. Passiamo in casa lancia, per tutti i lancisti con l'arrivo della nuova Y, finalmente è arrivata a disposizione ai nostri saloni e da sabato 8 potete venirla a vedere e provare, sia nelle motorizzazioni Hybrid che full elettriche. Quindi vi aspettiamo per il nuovo lancio commerciale della nuova vettura, perché veramente è dapprima da provare e poi ci sediamo a configurarla, a vedere dove possiamo arrivare con le nuove promozioni, visto che anche lei gode di incentivi statali col vostro usato da rottamare. E tutte le lancia Y attuali sono veramente strepitose, con la rottamazione possono essere vostre, pensate, solo con 9.900 euro. E con un piccolo anticipo, faccio l'esempio di 1.228 euro, potrete avere una rata, pensate, da 79 euro al mese per viaggiare su una lancia Y attuale 1000 Hybrid, quindi anche con l'esenzione bollo. Venite, affrettatevi, perché le vetture sono pochissime. Passiamo adesso ad Alfa Romeo, perché anche in casa Alfa Romeo gli incentivi sono aperti. Stiamo già proponendo la nuova Junior, non è ancora presente nei nostri saloni, ma possiamo già preventivarvela. Anche qui possiamo attivare gli incentivi statali col vostro usato da rottamare. In più abbiamo tutta la gamma Alfa Romeo in pronta consegna, sia da vedere che da provare, quindi venite a scoprire tutta la gamma Alfa Romeo in pronta consegna. Anche in casa Jeep gli incentivi statali sono di casa, quindi tutta la gamma sempre in pronta consegna, da visionare nei nostri nuovi showroom, da provare, quindi venite anche a provare le vetture, ma pensate, vi faccio un esempio concreto, su una Jeep Avenger 1200 cavalli nella versione Longitude, con la rottamazione statale potrà essere vostra a soli 19.700 euro e con un piccolo anticipo di soli 2.500 euro potrete avere un canone, pensate, da 149 euro al mese. Direi che i presupposti per acquistare la vostra auto nuova questo mese ci sono davvero tutti, da Torino Auto, ma c'è anche di più. Se la vostra scelta dovesse ricadere sull'alternativa al nuovo, sull'usato, un grandissimo parco con tantissima scelta e udite, udite, anche sull'usato sono arrivati gli incentivi. State con noi. Come abbiamo detto in apertura, questo è il mese degli ecoincentivi, ma soprattutto il mese degli ecoincentivi anche sull'usato e finalmente gli incentivi li abbiamo anche sulle vetture usate fino a 3.000 euro. Ma non dimentichiamoci addirittura che su una 500 elettrica, chilometri zero, che abbiamo prezzata a 18.900 euro, se usufruiamo degli ecoincentivi statali la portiamo a casa, pensate, soltanto con 15.900 euro, quindi più semplicemente con 159 euro al mese. Non vi aspetto a venirci a trovare. Siamo su un piccolo esempio, su Jeep Avenger, chilometri zero, perché ne ho svariati disponibile. Questo in particolar modo è in allestimento Altitude giallo con tetto nero. Prezzo in promozione 24.990 euro, ma soprattutto ai incentivi statali fino a 3.000 euro anche su Jeep Avenger. Non mancano le Jeep Renegade, sia usate ai chilometri zero, qui da noi in Torino Auto. Qui ne abbiamo un piccolo esempio, tutti i colori disponibili, tutte le motorizzazioni disponibili, ma mi soffermo sulle chilometri zero e in particolar modo sulle 1000 turbo in allestimento Longitude, pensate a partire da in promozione 17.990 euro, o più semplicemente rate da 179 euro mensili. Piccolo esempio di usato multimarca qui presente, siamo su una Ford EcoSport, Dacia, Duster, ne ho svariati in casa, addirittura il chilometri zero con il GPL, Mercedes classe C, cambio automatico, immatricolato nel 2016 con soltanto 100.000 chilometri, in promozione, qua da noi, 20.990 euro, garanzia 24 mesi. E molto bene amici, c'è molto di più da Torino Auto, anche un servizio post vendita rapido ed efficiente, ma soprattutto ci sono questo mese tantissime novità da venire a scoprire servizi vantaggiosi. Allora cosa aspettate? Telefonate, mandate le vostre richieste anche tramite WhatsApp, consultate il sito o passate direttamente per scoprire, perché Torino Auto è la scelta numero uno per acquistare la vostra auto nuova. Ricordiamo le sedi. Ricordiamo le nostre sedi, quindi oggi abbiamo trasmesso nella sede di Corso Romano 29 a Grugliasco, sede totalmente rinnovata dove vi aspettiamo numerosissimi, ma non dimentichiamoci strada del Portone 10, angolo Corso Orbassano, dove mi trovate presente, e la nostra sede di Via Grandi 8 a Grugliasco, esattamente adiacente al nostro centro magazzino ricambi. Grazie Enzo, ricordo che la parola d'ordine questo mese è incentivi, sia sul nuovo che sull'usato. Io ringrazio e saluto Diego Soldera, Enzo Zappia e vi do appuntamento alla prossima.